sto vedo vabbè alla fine prima o poi dovremmo riempire l'altra volta le riempite tutte le discese quindi alla fine lo dobbiamo aspetta lo sapevo io fatto ottimizzate da sempre l'equipaggimento migliore che siamo a posto aspetta un attimo no perché io e degli equipaggiamenti tipi di anni bene ragazzi siamo pronti per cantare a buceva ok adesso andiamo a sinistra se ricordo se non ricordo bene se ricordo bene perché vi va poco quelle parole oggi questo casino a perché mattina che volarci sono due ore fa sotto è quello molto bene io direi di salvare innanzitutto perché non ho ancora salvato ad avere ciò che gioco non ha ancora salvato oggi è intenzione di fare almeno il daceno appunto delle miniere di luce se l'uso se l'uso qualcosa se non mi ricordo male che sarebbe che mi devo fare quelle lì e poi basta perché io ormai faccio un indaggio una giorno un da giornata episodio sempre sorbetto allora che c'è franno ciao mattina l'aerodromo si sentono si può partire subito per la faccia di penero anche se non lo dice ma ti si sente responsabile lo sai anche tu che non sarebbe udito senza compenso va bene no io vedo allora lo sapevo comunque sappiamo a venire ciò però che non è come vuoi farlo superissimo non tutte le persone sono quali qui c'è uno c'è un bucino bese e vede idea di vede vedi quei banchi è lì che dei pelli che devi pagare senso c'è un banco per ogni stesso e ma se uscire devo andare a pagare salire a bordo se ma cosa il suo dire che vuole è stato cancellato e la bisogna aspettare capi capito io e gioia però non voglio prendere la riunione pubblica voglio prendere la grava per la lì di nostro amico buongiorno diretto a fortezze di albina possiamo offrirle a una risa veloce non è da concire visto di capire mai negozi per fare potete questo aspetta no nessuno questo è volo per l'albina e questo è il metto c'è volo per bucetta e questi sono i voli per gli altri stati che abbiamo fatto un mondo lì e questo avrà esserci le altre voli e comunque non devo dare la sua parte devo parlare completamente che aspettare che aspettare intanto quando avevo con la gente questa la vada stretta da altri viaggi non puoi andare lenti a curiosare fare shopping o poi chiacchiere con gli altri passeggeri poi anche impugnati delle stesse ideale per chi non ha mai tempo di dormire molto utile dai lavato che si stesse dovevano senza i tè perché deve migliorare albina che poterò vedere dignitosamente qui c'è famiglia in viaggio a questa quella incontreremo praticamente studia perché vediamo se abbiamo ancora provato prendiamo solo un sacco di tempo ma come perché non lo sai che alla mamma piace tanto da già in classe super russo guardate quelli economia economica un giorno capirai cara sera giocabile ricordatevi sti qua però quasi ricordo ricorda che bisogna ricordarsi sulla regola e solicita un quello quindi chiedo tutto finché non so qui prima che sia troppo tardi mercante storiano museo per rinforzermi e per farmi anche un bel giretto in città si sono tante quelle sai no questo non so dove si può non so a riparli si arriva a rivali c'è a rivali salivare salette di darle benvenuto possiamo fare un'area superloce che solo se abito e la vera che c'è con capire si grazie per l'ufficio informazione ragazzi proprio avremmo trovato per dire poi scusa ma quella che sta guardando fuori perché si vede subito che doveva rinviata qualunque alla croce più secoli c'è un genio e nega tutte le dalle stesse stai dietro e poi niente si è ancora troppo giovane ma cosa questa gente o giorno da teatrice pigiale altro non farò mai più un viaggio improvvisato altro che parlare qui non c'è niente non vedo la risoluzione la mia vita qui c'è i bambini che guardano fuori che bello ovviamente possiamo parlare con il comandante usiamo la città celeste i miei immagini sono una zona più interna sono quelle anche che tengono sospese nella città proposto è la che dobbiamo andare sopra il penale se pronto parlare di musica così perché devono abbracciare informazioni così per te sempre raggio seri rispetto da una scuola più piccola ma molto ricca grazie all'esportazione di maggio di te se non è ancora stato sottomesso per la cooperazione quelli ma che sono ancora fra l'impero vabbè ok sì sì sono pronta per un posto e lo via il posto necessario è tutto vai 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 siamo per questa prima missione serie a buccia da parlare da lì che aggiungeremo i mineri di lusso queste pronunce i mineri di lusso queste ci mancava solo questa scocciatura ma visto che appena sbighiamoci andiamo invece butto dovrà che si va va vabbè andiamo verificità 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 hati verificità vai si tutela che non conosco non ci sono le tue sicurezza vabbè che dico si vuole il casino sono partiti ci aspetto un caricamento lungo mille anni ti vuoi spiegare? grazie eh che cosa stai con questo Sì 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 Sì